Mi spiace, me la devo raccontare tutta perché devo raccontare la verità, tu hai saltato proprio, il pezzo è più importante Sì Ecco, no perché io mi sono alzato una mattina e ci ho detto chi è questo, anche perché segui 3.000 ragazze tutte di 20 anni, non ti ho mai detto niente Sei andato a ballare tutti i venerdì e tutti i sabati, mentre io ero da... io stavo a casa a dormire, no? E andavo a ballare pure nei posti dove ci sono donne che ballavano nude, Maria, quando dico nude, e cioè non avevo neanche le mutandine E non ci ho mai detto niente, e ora ti faccio... No, 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 Maria, aspetta un attimo Allora, lei continua ad infangare, lei continua ad infangare, sulla base di che cosa dici questo? Sulla base di che cosa? Vedi, continua ad infangare, Maria, se lei continua ad infangare, io lascio questo studio Eh, è la verità Perché non è possibile che... Eh, me l'hai raccontato la fidanzata di Simone, ti sei dimenticato? Allora, se la dobbiamo raccontare è dato perché tu mi fai passare per pazza Siccome mi hai dato già della pazza, allora o la raccontiamo bene la cosa o non la raccontiamo Perché non devi raccontare una cosa per un'altra Ecco, allora, non devi omettere le cose, altrimenti stai zitto Ecco, e quindi lui andava a ballare e tu non eri gelosa Maria, lo sai quella mia rabbia più grande? Che come mi sono fidata di quest'uomo, non mi sono mai fidata di nessuno in vita mia, mai Ma non l'ho mai controllato E ha iniziato di nuovo a nascondersi il telefono quando eravamo nelle Maldive Questo non lo dici però, no? Non è vero Non è vero Non è vero